Chi perde il posto di lavoro da ieri ha debuttato l'Aspi, l'assicurazione sociale per l'impiego, che sostituisce l'indenità di disoccupazione garantendo e senza lavoro maggiore durata in porti più elevati rispetto al passato e nel tempo prendere il posto anche di quella di mobilità, riducendo invece le opportunità rispetto agli scorsi anni. Così la riforma prevede che entro il 2017 l'attuale indennità di mobilità, che ora può durare al massimo 4 anni, sia sostituita completamente dall'Aspi, con una durata massima di 18 mesi. Ma chi può usufruire della nuova Aspi? Chi ha due anni di assicurazione versata all'Inps e un anno di contribuzione nel biennio precedente alla disoccupazione, una prestazione uguale nell'importo e nella durata per tutti i dipendenti che perdono il posto di lavoro senza considerare la qualifica professionale, il settore di appartenenza e la dimensione dell'azienda. Viene poi estesa la copertura assicurativa a categorie finora senza tutele, come i soci lavoratori delle cooperative o gli apprendisti. Ma da ieri è entrata in vigore anche la mini Aspi, i requisiti sono status di disoccupazione da almeno 13 settimane, cioè tre mesi di contribuzione d'attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, senza la necessità di avere i due anni di anzianità assicurativa. E solo per quest'anno potranno fruire della mini Aspi coloro che nel 2012 hanno lavorato 78 giorni. L'indennità è inizialmente uguale per Aspi e mini Aspi ed è pari al 75% del salario. Inoltre da gennaio 2013 ci sono incentivi per i datori di lavoro che assumono. Coloro che faranno un contratto ad una persona sopra i 50 anni, un disoccupato da 12 mesi o una donna, avranno una riduzione dei contributi da pagare del 50% per 12 mesi in presenza di contratti a termine e per 18 mesi per contratti a tempo indeterminato. Infine, altra novità è l'estensione della Cassa Integrazione ai lavoratori di settori come le imprese del trasporto aereo e aeroportuale, le attività commerciali e le agenzie di viaggio con oltre 50 dipendenti e le imprese di vigilanza che hanno oltre 15 dipendenti.